Ben androide a tutti, io sono Franz e oggi siamo nuovamente su Clash of Clans Ragazzi oggi è una giornata veramente assurda, vi faccio vedere Guardate queste due con le pozioni Allora io vi faccio vedere subito il replay degli attacchi che sto facendo Perché oggi non ne vuole veramente sapere di registrare il mio programma Comunque Datemi consigli se avete altri programmi di registrazione Decenti perché Comunque ragazzi io vi sto portando oggi una nuova serie Sempre di attacchi impossibili Però come vedete Questi qua saranno attacchi dedicati ai Connors Quindi ogni volta ci sarà un attacco Dedicato a qualcuno dei Connors in particolare In questo caso è Ice Come vedete Giusto perché è Ice Gli ho fatto 5 pozioni congelanti Oggi veramente Io spero che anche questa registrazione Cioè che almeno questa registrazione Vada a buon fine perché Veramente È una giornata assurda Ho provato due volte la registrazione Non ci sono riuscito Comunque vi stavo dicendo Ogni video ci sarà una dedica particolare Ci sarà una dedica particolare a uno dei Connors Adesso siamo partiti con Ice Come vedete L'abbiamo fatto una stella Abbiamo guadagnato comunque Più di nostro bottino Che di tutto Ringraziamo il nostro fornitore ufficiale Devil Un saluto Al nuovo cocapo Dirk E un ringraziamento particolare Abbiamo scherzato Nello scorso video Ma un Ringraziamento particolare Veramente Va a Capo Pilone Che è sempre disponibile A farci fare queste registrazioni Perché comunque Potrebbe anche dirci Non accettare Dire no Noi vogliamo fare le cose un po' per noi Invece il capo è sempre disponibile Mi ha sempre dato l'ok E per questo io lo ringrazio Sia per la sua disponibilità Sia per le truppe che mi dona E sia Per come gestisce questo clan Merita veramente Ragazzi che dirvi Io vi vorrei far vedere un attimo Anche l'altro attacco Come vedete Sempre se riesco A farvelo vedere Non vi assicuro niente Che quando esce questa schermata Poi si blocca il video Ve lo mando un po' avanti Questa invece è andata male Come attacco In pratico Ho fatto due attacchi per Ice Come vedete Ho usato le pozioni E alla fine Ho sbagliato pure A mettere una pozione Perché mi è Scivolata Adesso vi faccio vedere E qui adesso Mi è scivolata la pozione Va bene Non fa niente Qui è rimasta solo la regina Torniamo al villaggio Ragazzi io spero che il video Vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare un bel like Un bel pollicione in su Perché ormai questo gergo like Meglio il pollicione in su Se non siete iscritti al canale Iscrivetevi Dal vostro Franz è tutto Un saluto a Pepsi Prima che mi picchia E Bel Android Un saluto a